Mister, una gara equilibrata fino all'espulsione perché la tua squadra aveva approcciato bene, possesso palla, tanto gioco nella metà campo avversaria, poi ovviamente è stata una partita diversa, quindi ti chiedo dell'approccio e poi dell'episodio. Io devo dire che sono molto contento di come hanno iniziato i ragazzi, a parte dopo 30 secondi concedere quell'occasione, però diciamo che quell'episodio ci ha danneggiato perché comunque abbiamo preso campo, abbiamo creato qualche occasione, peccato poi dopo perché siamo rimasti in dieci per la seconda partita consecutiva e poi dopo tutto in salita. A livello mentale credo che questa sia la settimana più difficile, come lavorerai con i tuoi giocatori prima che sull'aspetto tattico e tecnico, proprio sull'aspetto mentale? Sì, adesso è importante non perdere di vista l'obiettivo perché comunque siamo a quattro punti sempre dall'obiettivo salvezza, quindi continuare su questa strada, lavorare, lavorare e magari giovedì già prendere qualche punto. Si rischia di dire delle frasi fatte, però sono davvero due finali quelle che la tua squadra deve affrontare tra giovedì e domenica in casa, Juventus e Spezia, l'obiettivo deve assolutamente a questo punto essere smuovere la classifica prima della pausa? Beh sì, adesso per noi questi sono due finali, bisogna fare di tutto per portare a casa dei punti fondamentali, almeno ci permettono di lavorare a dicembre in modo forte.